Mettere fine alle morti di bambini perché dimenticati inconsapevolmente in auto dai genitori. Con questo obiettivo il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli firma il decreto attuativo dell'articolo 172 del nuovo codice della strada. Per i piccoli di età inferiore ai 4 anni sarà obbligatoria l'installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per auto. Un vincolo che dopo la via libera del Consiglio di Stato è giunto fine settembre attivo già dal 7 novembre. Il dispositivo di allarme è costituito da uno o più elementi interconnessi la cui funzione di prevenzione dei casi di amnesia dissociativa si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo. Può essere integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini o attraverso una dotazione di base o un accessorio del veicolo compresi nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. Questo in particolare è una cliff che si applica le cinturine a partire dall'ovetto fino ai seggiolini per i 4 anni. Si pigia e si attiva, c'è un allarme sonoro che dice che è attivato, si scarica un'app e poi si collega al telefono. Il telefono principale se si allontana dal seggiolino quando è attivato parte un allarme acustico tipo una sveglia sul cellulare e che poi ci si ricorda che comunque c'è il bimbo in macchina. Se non risponde al telefono principale sono collegati altri, la possibilità di collegare altri tre numeri, parenti, marito, chi è e quindi qualcuno prima o poi lo riceve e questo è il modello a clip. Poi c'era un altro modello che è un tappetino che si mette sulla seduta e lì funziona sentendo il peso. Quindi se quello è sempre attivo ogni volta che il bimbo si siede funziona allo stesso modo. Quando ci si allontana partono i messaggi. Nel giorno dell'attuazione definitiva dell'obbligo dei dispositivi è scattata la psicosi collettiva. Molti dei genitori di figli con meno di 4 anni sono entrati nel panico a seguito della normativa vigente chiedendo diverse informazioni sul nuovo dispositivo e sull'acquisto dello stesso. Sì, sì, le ho prenotate. Meglio prenotarli così almeno non corriamo il rischio di non essere in regola. Era a conoscenza dunque di questa nuova normativa? In realtà ne sono venuta a conoscenza proprio il giorno in cui è entrata in vigore. Quindi prima non sapevo che sarebbe uscita ma non il set, quindi non ero preparata con l'accessorio. Gli automobilisti per evitare multa e decurtazione dei punti della patente sono obbligati di fatto a un acquisto frettoloso e non ragionato, il che potrebbe portare ad avere un prodotto non adeguato allo scopo considerando che l'obbligatorietà dei sistemi antiabbandono sarebbe partita 120 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto tecnico. Questo avrebbe permesso a fabbricanti, distributori e famiglie di adeguarsi alla normativa in modo corretto.